Alessandro Bonaccorsi è un grafico a Ravennati che ha creato e gestito il corso chiamato Disegno Brutto, che lui stesso definisce un percorso pratico di rieducazione al disegno e che dal 2017 ha fatto più di 80 contri in tutta Italia, fino a diventare un libro nel 2019, con 200 pagine e più di 70 esercizi pratici. Ma non è solo per questo che i nostri giovani giornalisti lo hanno intervistato alla sezione Holden della Biblioteca Class Sensei di Ravenna. Infatti, sono emersi dall'intervista alcuni aspetti della sua vita che hanno influenzato il suo percorso artistico. Cosa ne pensi dei murales? Penso benissimo, perché se ne penso bene sia quelli che si fanno in modo illegale, anzi che penso forse meglio di quelli che non di quelli fatti in modo legale. Tra l'altro mi piace tantissimo che Ravenna sia una delle città con più presenza di street art, quindi di arte di strada. La cosa che mi fa piacere è che ci siano più murales, quindi che sono più street artist, che non graffitari, intesi come quelli che mettono solo i tag e le firme. Ed è una cosa molto bella perché in realtà le città sono sempre state colorate, quindi anche nei tempi antichi è sempre stato tutto coloratissimo. Per cui il fatto che voi cresciate in un ambiente che è grigio è veramente triste, quindi è una ricerca, quindi va bene. Penso solo bene. Penso solo bene.